La Longhi riuscirà a manipolare il suo fidanzato con l'obiettivo di mettere le mani sui gioielli che ha preso Alberto. Un posto al sole inaugurerà il nuovo anno con una settimana di programmazione ricca di eventi e colpi di scena. Stando alle trame dal 2 al 6 gennaio 2023, infatti, Alice si convincerà di aver provocato la crisi tra Nunzio e Chiara e rischierà di far scoprire la sua relazione con il ragazzo. Intanto, Cerruti si ritroverà inaspettatamente a tavola con Castrese alla cena organizzata da Mariella per Capodanno e piano piano comincerà a rendersi conto che il giovane e Bufalotto sono la stessa persona. In seguito, Alberto verrà a sapere che Nico ha accettato di occuparsi del caso dei gioielli per conto di Lia, la quale si renderà conto di poter manipolare Diego a proprio piacimento per mettere le mani sul tesoro. Poco dopo, Nunzio si confronterà nuovamente con Alice a proposito della loro situazione e finalmente sembrerà che tutto sia risolto e che la sua relazione con Chiara sia in salvo. Un posto al sole. Anticipazioni dal 2 al 6 gennaio 2023. Clara non saprà se credere a Diego o ad Alberto. Il legame tra Eugenio e Viola sarà sempre più in crisi. Mentre la Bruni si avvicinerà a Damiano. Intanto, Clara sarà confusa dopo l'accorato appello di Diego. Dal momento che Alberto le spiegherà di non aver messo le mani sul tesoro della famiglia di Lia. L'accorcio non saprà a chi credere. Mentre Mariella proverà ad aiutare Speranza a mettere un freno alla sfrontatezza di Michaela nei confronti di Samuel. L'altieri proporrà alla nipote un piano inaspettato. Dal canto suo, Nunzio soffrirà moltissimo per la separazione con Chiara. Mentre Alice sarà certa di poterlo conquistare. Nel frattempo, stando agli spoiler di Un posto al sole dal 2 al 6 gennaio 2023. Viola sarà in difficoltà a proposito dei sentimenti che prova per Damiano. Mentre Michaela si invagherà di Samuel ed inizierà a ronzargli intorno. Un posto al sole. Trame settimanali. Rosa riceverà una brutta notizia. Alice farà una scelta drastica ed inaspettata che metterà in allarme Marina. Intanto, Viola e Damiano attenderanno il risultato delle indagini dell'Agenzia Dogane sui materiali utilizzati dalla fabbrica di giocattoli. Rosa Piccariello, però, apprenderà una notizia preoccupante che potrebbe compromettere il suo futuro e quello di Manuel. Infine, per Serena arriverà un'epifania speciale grazie ad un gesto di tenerezza delle gemelle nei suoi confronti. Vi ricordiamo che la SOP Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle ore 20.50. Grazie. 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 Grazie.